buongiorno volevo partire da una considerazione che peraltro è suffragata da fatti effettivi quindi non è che sto inventando nulla ci sono numeri certificati e riguarda le differenze che ci sono tra Vlaovic e Milic quanto a rendimento cioè quanto a gol partendo da un presupposto molto importante tra l'altro che Vlaovic ha giocato molto più di Milic anche perché Milic è arrivato dopo parte sempre dalla panchina parte un paio di circostanze eccetera 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 a Monza per esempio non c'era perché era squalificato e così via praticamente tutti e due hanno segnato quattro gol perché per me Milic ha segnato anche cioè per me perché Milic ha segnato regolarmente anche il gol contro la Salernitana e quindi voglio considerare voglio considerare anche questo nella nella statistica che vi sto per dire o meglio nel raffronto che sto per fare dei quattro gol segnati da Vlaovic tre sono su calcio piazzato un rigore e due calci di punizione per carità nel bagaglio di un attaccante importante che ci sia anche questo va a completare il suo modo di segnare lo fa diventare un attaccante eclettico però fino ad ora l'unico gol in movimento lo ha segnato la prima giornata contro il suo solo su assist di Di Maria Milic considerando che quello contro la Salernitana ha segnato a sua volta quattro gol tutti in movimento e più o meno tutti simili nella dinamica tre di testa e uno diciamo di pancia a Firenze con cross dagli esterni entrambi non hanno avuto molti palloni giocabili però Milic ne ha avuti di più di Vlaovic in proporzione e soprattutto li ha sempre buttati dentro o quasi sempre buttati dentro Milic ricordo ha sbagliato un gol praticamente già fatto contro il Paris Saint Germain nel primo tempo quando praticamente di testa ha colpito ma ha centrato in pieno Donnarumma sull'azione successiva poi Vlaovic tenta il colpo di tacco ma non possiamo considerarlo propriamente un gol sbagliato da Vlaovic nella stessa partita Vlaovic ha un colpo di testa e Donnarumma para nel secondo tempo lì vanno di pari passo allora due ordini di considerazioni perché a Milic arriva qualche pallone in più rispetto a Vlaovic è più bravo a smarcarsi, è più bravo a trovare gli spazi di testa è migliore perché sa anticipare meglio l'avversario se voi guardate i colpi di testa realizzati da Milic Benfica, Spezia e Salernitana va incontro alla palla, cioè si trova allo spazio e la butta dentro Vlaovic quando segna di testa, lo ha fatto per esempio l'anno scorso contro la Salernitana ha già lo spazio vuoto, cioè non se l'è creato la butta dentro di testa ricordate il gol contro la Salernitana un modo diverso di porsi quindi questo vuol dire che Milic ha un bagaglio un'esperienza dovuta anche ai sei anni in più 28 contro 22 un modo di fare l'attaccante più navigato e più smaliziato rispetto a quello di Vlaovic e quindi facendosi trovare più frequentemente nello spazio di quanto faccia Vlaovic riceve anche più palloni probabilmente a Vlaovic non riescono ancora non riescono ancora, perché Vlaovic è un giocatore in netta costruzione non riescono ancora dei movimenti per trovare lo spazio libero lo spazio appropriato al momento giusto e ribadisco ancora una volta andatevi a vedere i gol segnati da Vlaovic con la Fiorentina sono quasi tutti in lancio verticale e in contropiede pochi dagli esterni quasi tutti in lancio verticale e in contropiede come segnò al primo lancio verticale di Dybala come segnò a Cagliari sul lancio verticale di Dybala modi differenti però stiamo parlando di un attaccante consolidato e di uno in fase di costruzione quindi ha bisogno di in ogni caso Milik ha sbagliato meno di Vlaovic è più decisivo anche in questo caso Vlaovic deve crescere deve imparare Vlaovic contro l'Empoli ha la stessa occasione che ha Milik contro lo Spezia riceve palla dal fondo dall'esterno si gira e va a tirare Milik la butta dentro Vlaovic complice anche con la leggera deviazione ma si vede che la prende comunque male la palla va fuori quindi attenzione a dire sempre che a Vlaovic non arrivano i palloni giusti è vero gliene arrivano pochi come ne arrivano anche a Milik ma Milik è in grado di capitalizzare per movimenti e per esecuzione Vlaovic non ancora quindi Vlaovic ci mette anche un po' del suo ma è naturale è normale perché stiamo parlando di un attaccante in costruzione io spero di essere stato chiaro con questa rivisitazione dei due giocatori che sono convinto sono convinto giocheranno sempre assieme d'ora in avanti giocheranno sempre o quasi sempre assieme perché ovviamente un po' di turnover andrà fatto ma credo che sulla scorta di una certa esperienza e considerando il lavoro sia pure a ranghi ridotti che si sta facendo ora la previsione in futuro sia quella di vederli sempre molto più spesso assieme se non quasi sempre se non quasi sempre salvo casi di forza maggiore stazioni di forza maggiore credo che nel cambiamento della UE ci sia questo e con un Di Maria che si vedrà solamente in Champions alla ripresa dell'attività nelle due sfide col Maccabi perché salterà Bologna e Milan con un Di Maria forse un pochino più accentrato e lì dietro è la prima volta che faccio un video così lungo di questioni tattiche o tecniche riguardanti i due giocatori ma il calcio è soprattutto questo sono fatti e poche parole gli altri fatti che vanno a fotografare una situazione francamente molto difficile per la Juventus deriva da questo resoconto che ha fatto anche la Gazzetta dello Sport sugli spettatori sugli spettatori che erano lì ce ne siamo accorti tutti pochi contro lo Spezia pochi contro la Salernitana ma il dato veramente pazzesco è che fossero stati pochi siano stati pochi contro il Benfica 32.000 come rubrica e li ho notati subito e si notavano subito nel settore di fronte alla tribuna addirittura una parte della curva scirea e comunque il secondo anello là davanti spazi vuoti immensi perché in uno stadio di 42.000 posti 32.000 spettatori fanno un bel vuoto sono gli effetti collaterali di una situazione di transizione barra declino di fronte alla quale la Juve poi si rialzerà perché si rialzerà con cambiamenti tecnici con cambiamenti tattici con cambiamenti probabilmente anche a livello societario perché gli indizi si stanno facendo sempre più forti perché certe situazioni di conflitto che parevano insanabile e che si erano create in passato stanno dando segnali di importante riappacificazione ne parliamo questa sera vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo anche di andare all'applicazione numero 10 ogni giorno è il punto mio sulla Juve ma trovate tanti altri argomenti interessanti tanti aneddoti tante notizie l'aggiornamento costante al passo della situazione a questa sera ciao grazie a tutti Grazie.